E saluto a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo nell'ottavo episodio delle basi di Escape from Tarkov E oggi parleremo del modding Ma prima di rizzare vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio discord Del discord della community italiana e tante altre cose interessanti Quindi date sempre un occhio alla descrizione Poi nuovamente voglio ricordare che queste guide sono fatte ovviamente per chi ha appena iniziato E sto cercando di seguire una linea di cose da mostrare E per me è difficile mettermi nei panni di chi ha appena iniziato E quindi potrei magari anche in questi video dire qualcosa che voi che avete appena iniziato Magari non sapete che cosa significhi E se succede non esitate a farmi domande Allora oggi parleremo del modding Il modding è una cosa molto facile Un sacco di gente mi chiede Eh ma come fai a sapere che cosa devi mettere Come metterlo, dove metterlo Questo ovviamente più avanti vai E lo impari da solo Ti ricordi da chi comprare i vari pezzi Anche se man mano che vanno avanti le cose Loro cambiano sempre magari da chi compri certi oggetti Allora io vi faccio vedere intanto questa SWD Come è moddata Vi faccio vedere le statistiche Perché? Perché l'arma noi la moddiamo non per renderla bella ma per renderla utile Utile ovvero che cosa sono le cose che noi dobbiamo controllare la maggior parte delle volte Quando facciamo un'arma Le cose principali che dobbiamo controllare è l'ergonomia e i due valori di recoil Che il più importante è il vertical che ovviamente è l'arma che va sopra Quindi quando sparate l'arma va in su e poi c'è l'orizzontale che l'arma va a destra e sinistra Allora noi in questa interfaccia troviamo la durabilità dell'arma Il mastering che più usate l'arma più aumenta il mastering E più magari il vostro personaggio la sa utilizzare Quindi siete più bravi ad utilizzarla Nel senso che magari il recoil è ancora più basso E tutte queste cose del genere Come quando l'ha impugnata Insomma vi dà dei buff Quando usate l'arma che avete masterato Incredibili Poi c'è l'ergonomia L'ergonomia è una delle cose veramente fondamentali Ovvero più è bassa l'ergonomia Più potete metterci a mirare con l'arma E essendo che non è ergonomica Più stamina voi perdete mentre siete in mira Quindi più alta è più è la velocità in mira Più è stabile l'arma mentre la tenete Meno stamina drain Quindi vi butta giù meno stamina mentre state in mira E così via Quindi l'ergonomia è una cosa veramente veramente Più importante anche del recoil Poi c'è l'accuracy Che questo dipende magari da che pezzi Da che canna Da che proiettili Questo varia da tantissime cose E che cosa dovete fare O cliccando due volte con il tasto sinistro O tasto destro e inspect Vedete un po' Insomma insettate gli oggetti Quindi qua vi da tipo a cura Si ci toglie il 2% E c'è il recoil meno 3 Ergonomia meno 9 Il mazzol velocity 0.75 E così via Tutti i vari parametri Poi il vertical recoil Che cos'è che lo modifica? Lo stock modifica il recoil Silenziatori O tipo qua Spengi fiamma In questo caso qui c'è un compensatore Che anche questo Modifica il recoil Quindi tutte le cose che vanno Sulla canna Modificano il recoil E Ora ho spostato l'arma Anche La canna Modifica il recoil Quindi tutte le cose Che c'entrano con la canna Date sempre un occhio per il recoil E poi vabbè Il classico grip frontale Dipende quali Quelli che danno Più in ergonomia Menore Insomma dovete essere bravi voi Anche a giostrarvi Ad esempio Se io qua Questo lo levo Vedete Va a 25 di ergonomia Lo rimetto E sale di 11 E così l'arma È un po' meglio da utilizzare Allora Com'è che si modifica magari un'arma? Ad esempio Io faccio tasto destro Modding E per fare queste due cose Che vi mostrerò adesso Dovete per forza avere La workbench Nel vostro hideout E qui in alto a destra Vi lascio il link Al video dell'hideout Se non avete visto L'hideout serve Sì o no Cosa fate? Tasto destro Modding E avete tutta questa schermata Con tutte le cose da mettere Ad esempio Abbiamo i grip Abbiamo i mirini Abbiamo tutte le varie cose Che noi possiamo mettere Nell'arma E così via Allora Prima Voi dovevate per forza Avere tutte le mod Fuori da qualsiasi container Mentre adesso Se io vuole Hanno modificato Che anche se sono dentro I container Come in questo caso Io nei container Qua sotto Mi pare delle armi Qui ho tutti i grip Quelli frontali E se vado in modding Me li fa vedere Quindi Finalmente un cambiamento Che serve veramente tanto Quindi Questo tipo Di schermata Serve se voi avete gli oggetti Se glielo volete mettere Velocemente Oppure C'è il preset Quindi andiamo in edit Preset Anche qui Workbench a livello 5 Ok Ora qua si Si bugga Ogni tanto Che cosa posso fare io Allora Qui in basso a sinistra Apro Per vedere Come diventa la mia arma E la posso anche spostare Se lo prende Lo trascino Poi Posso mettergli tutto Quello che voglio E che posso Basta che qua Non mettete la spunta Perché se qua fate Use only available parts Vi utilizza solo le cose Che voi avete nell'inventario Invece se togliete la spunta Tutto quello Che gli potete mettere sopra Lo potete fare Quindi ad esempio Non so Io Metto questo mirino Questa dietro Gliela levo Qui cambi calcio Ci metto tipo Questo qua Posso metterci tutto Quello che voglio Quindi boh Ci metto questo Poi ci metto Quest'altro stock E adesso Già la nostra arma È a 34 Di vertical recoil E a 62 Di ergonomia Poi nel grip Metto questo Perché io so Che questo grip Dà un sacco Di ergonomia Poi boh Facciamo gli sboroni Mettiamo il caricatore Da 50 Poi gli cambio La canna Gli metto una canna Un po' più lunga Adesso c'è la 203 Gli metto Questa qua Quindi gli mettiamo Questa canna Così gli possiamo Mettere Questa parte Questo For grip Lungo Gli mettiamo Sotto La rail E ci mettiamo Anche qua Diamogli Più ergonomia Qua perché Il laser È una cosa Da avere Sempre Se potete E quindi Gli metto Il laser blu E se siete interessati Di nuovo in alto a destra Vi lascio il link Al video Del laser Serve sì o no Poi andiamo a pensare Alla parte frontale Che penso Che questo Ok L'ergonomia Comunque è buona E gli metto Questo Ho l'ergonomia 73 Ma il mio vertical Recoil A 27 Se no posso Mettere questo Che me lo porta Comunque a 27 Quindi abbiamo Creato Praticamente Un mpx Mostro Poi visto che sono bravo Gli voglio aggiungere Un altro laser E faccio doppio laser blu Ma perché sono stronzo Gli metto Un terzo laser blu E diventa Una cosa del genere Quindi leviamo tutta sta roba E diventa così Il nostro mpx Diventa lunghissimo Poi Che cosa posso fare Vado in Save as Mpx Bestia Anzi Chiamiamolo direttamente Bestia Save Ok Adesso Io posso fare Assembla Clicco qua Sul mio mpx Seleziono Qua Dovete lasciare la spunta Perché così non vi fa comprare Anche le cose che avete Compra Purchase all Yes Poi Torniamo Nel preset Dobbiamo riaprirlo Quindi Bestia E se è sto Tentativo Perché c'ho C'ho proprio tutto pieno Vediamo Ignora Alleluia E me l'ha Assemblata E mi ha fatto Tutto da solo Quindi noi Adesso abbiamo Un mpx Gigante Pieno di roba E una bestia Perché ha 26 di vertical recoil E questo coso Non si muove Quindi ora Lo riempio E ve lo porto a far vedere Nell'headout Ok Vediamo un pochettino Cioè io non Non sto Cioè il mouse Lo tengo solo per sparare Cioè E se tengo la mira Buona Cioè Un'arma Che lasera E tutto questo Per il vertical recoil Che è delle cose Che bisogna controllare Sempre Poi ora faccio solo con il laser Cioè guardate lì Sono tutti in un punto i colpi Quindi niente Abbiamo creato un mpx Che è veramente un mostro Poi se volete Se volete avere un po' più di ergonomia Gli mettete un caricatore Da 40 Da 30 Che quello da 50 Leva comunque un po' di ergonomia Però questo è una bestia Di mpx C'è un questo recoil Laserate le persone Quindi niente Del modding C'è da vedere queste cose L'edit preset Vi consiglio di farlo Quando siete a livello 40 Con tutti i traders Bloccati A livello 4 Perché Se no le cose Ve le compra Dai player E tante volte Sono già finite Quindi magari Velocizzate il processo Una volta Che avete tutte A livello massimo Però niente Sul modding Non c'è tantissimo da dire Perché Le cose da metterci Ovviamente Le conoscete Man mano Che le moddate Le trovate Le usate E capite un po' Come funzionano Però con l'edit Con il preset In quel modo Potete capire Quali sono i pezzi meglio Quindi mettervi Lì Controllarvi Vedere un po' L'arma come vi viene Controllare tutte le statistiche Quindi ricordatevi Le statistiche principali Da controllare Sono ergonomia E vertical recoil Queste sono Le cose principali Che voi dovete controllare Perché poi Tanti Sighting range Cambia dal mirino Che mettete E quello Non è tanto importante Accurasi Bene o male È quella Recoil orizzontale Non c'è niente Che proprio modifica Il recoil orizzontale Cioè Le mod che voi Mettete Per la maggior parte Loro vanno Sul vertical E poi sta a voi Riuscire a Ad aggiustare la mira Con l'orizzontale Quindi niente Questo è un po' La spiegazione del modding Di come funziona Di che cosa controllare Di che cosa possono fare E come appunto Vi ho spiegato L'ergonomia Spero che vi sia stato utile Adesso avete un po' Capito che sostanzialmente Il modding È tantissimo Non è poi così difficile E quindi niente Nuovamente Spero che vi sia Piaciuto il video Sia stato utile Se avete qualcosa Da dire Qualsiasi cosa Scrivetemelo sotto Nei commenti Anche se sono critico Qualsiasi cosa Leggo tutto E rispondo Se ho qualcosa Da dire Quindi niente Noi ci vediamo In un prossimo video E questa volta Speriamo che sia Un video game play Speriamo che